Guido non potevamo non fermarci qui sulle ride del lago di Gallo dove sembra un posto meraviglioso una vegetazione bella bellissima bello sì il lago di Gallo a differenza di quello di Letino è molto più giovane sì perché è stato fatto l'acqua artificiale è stato realizzato ai primi degli anni 60 61 61 quello di Letino è stato fatto nel 1910 mamma mia quindi la differenza c'è però è ugualmente una meraviglia della natura e questo lago è anche alimentato dal fiume Lete dall'inghiottitoio della diga del lago di Letino alimenta chiaramente ugualmente questo lago bellissimo lago insieme al fiume Sava vedete vieni Giuseppe così ti salutiamo i nostri amici con questo bellissimo lago bellissima giornata grazie a tutti un giro a Letino e poi tanti saluti dal lago di Gallo dal lago di Gallo ciao ciao alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti